La Giunta Comunale ha deliberato i finanziamenti per alcuni interventi di progettazione, realizzazione e restauro in diversi luoghi della città. Con 7,8 milioni di euro nell'ambito del patto per Napoli è stata approvata la progettazione esecutiva della città verticale per riqualificare le scale di Montesanto, la Pedamentina, le salite del Petraio e del Moiariello, la calata Petraio e la salita Cacciottoli. La rete dei percorsi pedonali sarà anche infrastruttura fisica per progetti culturali e sociali. Sarà invece di 5,7 milioni la spesa per realizzare la passeggiata che, prolungando Piazza Municipio, condurrà verso il Molo San Vincenzo, una decisione che sarà accompagnata da accordi col Ministero della Difesa, l'Agenzia del Demanio e l'autorità portuale del Tirreno Centrale. Per 1,8 milioni ancora all'interno del patto per Napoli sono stati infine approvati i lavori di restauro per la pavimentazione della Galleria Umberto I e per l'allestimento di una postazione della Polizia Locale a presidio della Galleria. Stiamo adesso raccogliendo un po' i frutti di questo grandissimo lavoro che abbiamo fatto in questi mesi di programmazione, di riferimento delle risorse, anche di accordi istituzionali che stiamo finalizzando. L'acquisizione della possibilità di accesso e l'investimento corrispondente sul Molo San Vincenzo rappresenta uno degli obiettivi che in pochi mesi siamo riusciti a realizzare. Lo stesso vale per la Galleria dove noi abbiamo assunto un impegno del rifacimento della pavimentazione, poi interveremo anche sulla copertura. Chiaramente ci aspettiamo adesso il mantenimento degli impegni delle altre istituzioni che sono sedute, dei privati, che sono seduti al tavolo in prefettura. Abbiamo anche ieri fatto una delibera importante che riguarda le pedamentine, quindi tutto il collegamento della Napoli verticale. Stiamo sbloccando risorse, acquisendo risorse nuove, progetti gare. È la strada che noi dobbiamo seguire per ricostruire una Napoli competitiva e che finalmente possa investire.